Ciao ragazzi, allora questo è... aspettate, ok, metto un po' centrata questo è un video haul finalmente, penso una vita che non faccio video haul per il semplice fatto che non ho soldi da poter spendere in tutto quello che mi piacerebbe acquistare sto parlando sia di make up che di prodotti di bellezza in generale ma anche di abbigliamento il periodo di crisi penso che lo stiamo sentendo un po' tutti speriamo in una ripresa e quindi ho deciso di, diciamo, tirare un pochino sugli acquisti quindi ho cercato di tirare maggiormente su ombretti, palette tutte quelle cose che ho in una maniera esagerata perché voi non so se lo sapete ma io ho una marea di palette da quelle grandi a quelle piccole, tante uguale gloss, ce ne ho tantissimi, cioè non so come fare uguale gli ombretti mono che sono messi lì da parte e non utilizzo più perché mi risulta più comodo usare delle palette per non parlare delle matite le matite sto cercando di smaltirle il più velocemente possibile perché ne ho veramente tante e anche dello stesso colore proprio perché le compravo magari delle matite marrone o nere le compravo di diverse marche per vedere quella che mi piacesse di più nella scrivenza, nella durata eccetera però, già, rendetevi conto se possono avere quattro matite marrone cioè quattro che poi le vai a utilizzare sempre una e quell'altra stanno nel dimenticatoio quindi diciamo che sto cercando un attimino di smaltire tutti i prodotti partendo da quelli vecchi per arrivare, diciamo, ad avere un numero normale di trucchi in maniera tale da poter poi comprare altri prodotti però, però, che succede? che praticamente le case cosmetiche escono con dei nuovi prodotti ciclicamente e tra queste nuove collezioni ci sono sì cose che sono viste e riviste che quindi uno non comprerebbe mai però ci sono anche quelle cose che sono innovative e quindi ho pensato di acquistare delle collezioni che usciranno solamente cose che non ho quindi cose innovative cose che ovviamente mi piacciono non è che vado a comprare un rossetto blu perché è innovativo un colore innovativo penso anche al lusso che ne potrei fare insomma e niente e quindi ho fatto un po' di acquistini allora parto subito con l'acquisto diciamo che ho fatto su internet su facebook tramite una ragazza che è Makeup Passion che ha anche un canale qui su youtube e vi lascerò il link qui sotto sia della pagina facebook che del suo canale youtube a lei mando un bacione ciao cara perché praticamente ormai si è staurato un rapporto di amicizia tra virgolette perché la maggior no la maggior parte però diciamo gli acquisti migliori fino adesso su internet li sto facendo dalla sua pagina dal suo sito e questo mi piace tantissimo allora ho preso un set di pennelli allora questo set di pennelli io non mi ricordo quanto l'ho pagato mi pare 35 euro non mi ricordo quanto l'ho pagato scusatemi però diciamo è il primo set di pennelli suo proprio della ragazza e si presenta in questo modo cioè è il set di pennelli più femminile che io ho potuto vedere fino adesso sono praticamente uno due tre quattro 5 6 7 8 9 10 pennelli sono 10 pennelli abbiamo un pennello per la cipria un pennello per il blush un pennello piatto per il fondotinta un pennello da ombretto un pennello da correttore un pennello da sfumatura un pennello per le labbra un pettinino per ciglia e sopracciglia un pennello angolato per l'eyeliner e un pennello di quelli con la punta fina sempre da eyeliner allora come potete vedere e come vi ho appena descritto diciamo tutti i pennelli se ci fate caso questo è un set da 10 pennelli che però comprende tutti i pennelli che sono utili per un make up completo il prezzo vi ho detto è di 35 euro e vi devo dire la verità io ancora non l'ho provato però al tatto perché comunque li ho scartati al tatto vi posso dire che sono morbidissimi come pennelli in più sul manico ora ve ne faccio vedere uno sul manico ha il nome sul manico ha il nome make up passion e il manico è bello grossetto non è di quelli fini 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 è bello grande anche dei pennelli quelli da ombretto è abbastanza cicciotto non è finissimo e questa cosa mi piace molto perché permette di avere una presa sul pennello molto molto buona poi diciamo la verità la cosa che più mi ha attirato è il pandan nero fucsia sapete che il verde e il rosa sono i miei colori preferiti quindi non potevo farmi scappare questo set se volete vi posso fare un video utilizzando questi pennelli perché secondo me per chi non ha un set di pennelli questa potrebbe essere un'ottima soluzione poi adesso si avvicina anche natali quindi diciamo regali che ci si possono far fare e questo potrebbe essere un ottimo regalo soprattutto per chi è in fase di inizio di sperimentazione del make up perché appunto è un set di pochi pennelli perché sono dieci che vi arrivano con la loro pochette comodissima e soprattutto comprende tutti i pennelli che vi possono essere utili per un make up completo quindi è un ottimo acquisto niente se volete vi dicevo vi posso fare il video dimostrazione di questo set di pennelli che potrei utilizzare sicuramente se me lo chiedete lo farò lo utilizzerò con la palette che ho preso sempre da make up fashion che è una palette di colori shimmer no di colori satinati o shimmer non mi ricordo no mi sa satinati di colori satinati 88 colori quindi fatemi sapere con un commento qui sotto se volete che vi faccia la dimostrazione di questo set di pennelli altrimenti niente altrimenti li proverò da sola in totale solitudine e mi renderò conto da sola di aver fatto un ottimo acquisto perché già ho visto tantissime tantissime ragazze che sulla pagina facebook hanno parlato benissimo di questo prodotto quindi andate a dare un'occhiata vi lascio tutti i riferimenti qui sotto passiamo adesso invece agli acquisti che ho fatto Neine ad acqua e sapone allora all'acqua e sapone ho trovato allora eccomi qua mi si era scaricata avevo finito la memoria della fotocamera allora acquisti da acqua e sapone allora all'acqua e sapone ho acquistato che erano in offerta mi pare all'incirca sui 7 euro due rossetti della linea Kate Moss che era uscita tempo fa mi pare l'anno scorso e ho preso il numero 08 e il numero 05 allora sono due colori rosati però uno è nude e uno è fucsia allora il numero 08 è il nude ed è questo colore qui è esattamente come lo vedete dalla videocamera è un color nude rosato però un po' scuro tendente al rosa antico e è molto molto simile al mio colore di labbra invece l'altro è appunto un fucsia eccolo qua un fucsia che però è più un fucsia sul ciclamino non un fucsia sparaflesciante ed eccolo qui è questo qua questo ancora non l'ho utilizzato l'altro invece l'ho utilizzato tantissimo e vi devo dire la verità da che mi ricordavo che questi rossetti erano molto buoni lo ribadisco nuovamente quindi se li trovate andateli a prendere perché effettivamente rispetto ai 12 euro al che li avevo presi io agli altri due questi all'incirca 7 euro sono molto convenienti l'unica pecca è che ne sono rimasti pochi almeno alla mia acqua e sapone ne sono rimasti un po' pochi infatti non ho trovato un colore che mi sarebbe piaciuto avere però no va bene così finiamo quelli che abbiamo e niente quindi questi sono i due nuovi rossettini che si andranno ad aggiungere alla mia collezione esagerata di rossetti ne ho tantissimi però devo dire la verità questa linea di rossetti della Rimmel è molto molto buona durano tantissimo e questi qui però non sono matte ma sono leggermente shimmer ed è il finish diciamo che più mi piace almeno per questo periodo non so perché c'è stato un periodo in cui mi piacevano tantissimo i matt però ultimamente non è che mi stanno piacendo tantissimo e quindi verto un po' di più sul brillante su un po' di satinato di shimmer anche sulle labbra perché mi piace veramente tanto poi magari ritornerò al matt non lo so dipende un po' dal periodo che passo insomma e niente e questi due appunto sono i rossettini che si uniscono nella mia collezione poi allora ho fatto un acquisto legato a un video che ho visto di una ragazza che conosco da anni e che è Letizia la saluto ciao come vedete ti aspetto qua e veramente ti sto aspettando e niente grazie al suo ultimo video anzi penultimo video perché oggi proprio l'ha caricato un altro grazie al suo penultimo video su gli stick gli ombretti stick di Deborah mi sono fatta contagiare un attimino li sono andati a vedere perché li ho trovati e li ho presi li ho presi cinque eccoli qua ho preso queste colorazioni qui queste qui che adesso vi vado a far vedere allora la 01 la 01 è questo colore qui che se voi ci fate caso è praticamente molto 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 simile a quello di Kiko ora vi faccio lo swatch di tutti questi eccolo qui questo è lo 01 è praticamente un beige chiaro che può essere utilizzato anche all'interno dell'occhio per allargare lo sguardo poi il numero 02 è invece un bronzato e questo mi piace tantissimo eccolo qui questo bronzato qua molto molto bello poi ho preso dov'è il numero 05 05 che è questo colore qui che è un viola top diciamo viola grigio molto molto bello che come ha detto la stessa Letizia riprende tantissimo il gli ombretti che erano usciti nella collezione di Natale quella in collaborazione con la Braille e io li ho presi proprio per questa motivazione perché ho tutti e sei gli ombretti di quella collezione e quindi li posso utilizzare in combo nuovamente questo Natale poi ho preso lo 06 che è un color blu fantastico a mio parere è quello che mi piace più di tutti eccolo qui che mi mancava una base ombretto blu mi mancava oggi non ci sto proprio c'è il disastro totale con queste scade di memoria l'ultimo è lo 07 che è un verde militare molto molto bello luminosissimo guardate questi ho adesso li vedete perfettamente questi sono i 5 extra come si chiamano extra perli stick e shadow che ho preso della debora milano eccoli qua sono veramente ottimi io ho già provato questi due no quale ho provato questi ho provato già questi due che sono il bronzo e il verde militare e vi assicuro che sono fantastici ci sono andata a salsa la lezione di salsa e con tanto che ho sudato sono rimasti lì non si sono mossi e sono fantastici sono super scriventi si sfumano praticamente molto meglio a mio parere di quelli di Kiko e sono allo stesso tempo buonissimi si presentano nello stesso packaging più o meno leggermente più piccolo leggermente più piccolo e io appunto ho preso questi colori qua li rifaccio vedere questi sono i colori che ho preso io poi se volete vederne qualcuno all'opera ditemelo sempre con un commentino qui sotto io vi vi farò la dimostrazione cerco sempre di chiedere a voi di darmi diciamo dei consigli su quali video fare in maniera tale da non annoiarvi o comunque di non fare video che siano che non siano utili o che comunque non vi interessino perché altrimenti non avrebbe senso se no faccio i video per conto mio e mi riguardo per conto mio invece preferirei avere da parte vostra un riscontro altrimenti non avrebbe senso fare video su youtube insomma se uno deve fare video solamente perché vuole far vedere quello che fa o quello che compra o altro secondo me non ha senso quindi per favore ditemi se vi interessa qualcosa da vedere in maniera tale che ve lo faccio vedere così si può avere anche una sorta di comunicazione altrimenti se no diventa una cosa a senso unico vabbè comunque questo è un altro discorso cioè io passo veramente da palimprasca ok adesso passiamo a quello che è stata la rivelazione l'acquisto rivelazione ovvero la nuova collezione di Pupa e io la sono andata a vedere devo dire la verità mi ha entusiasmato soprattutto per gli smalti e per gli ombretti in in polvere in pigmento diciamo per gli altri prodotti devo dire la verità a mio parere sono cose viste riviste anche da altri brand quindi non ho lasciato un po' perdere e ho preso praticamente solamente tre cosine ho preso questi qui due smalti e un ombretto come vedete dalla videocamera gli smalti sono quelli olografici cioè quelli che cambiano colore a seconda di come viene indirizzata la luce allora parto subito con l'ombretto che è un ombrettino in polvere libera che è anche questo a effetto olografico cioè iridescente ed è il numero 001 è questo colore qui non so quanto possiate apprezzare dalla videocamera però vedete che ha questi riflessi è praticamente un lilla con riflessi turchesi è molto molto bello e questo ombretto l'ho visto grazie a Martina Sacco che è un'altra ragazza che fa video qui su youtube che io sto seguendo ultimamente vi lascio il link anche del suo canale qui sotto e l'ho visto addosso a lei in un video mi è piaciuto tantissimo cioè era una cosa esagerata cioè una brillantezza unica adesso lo apro e cerco di farvi uno sbocino anche a voi aspettate ecco qua eccolo qui è questo qui non riuscite ad apprezzarlo tantissimo come faccio è praticamente un lilla con dei riflessi verdi molto molto luminosi molto molto bello questo sicuramente lo utilizzerò in un in un video perché è veramente veramente bello mi è piaciuto tantissimo diciamo che è stato uno di quegli acquisti che ho fatto proprio seguendo il canale di martina quindi la devo ringraziare e sono 4 grammi di prodotto con scadenza 6 mesi sono piccoli cioè il prodotto all'interno è veramente tanto vi devo dire la verità perché è proprio paro paro alla boccettina e poi comunque di questi ombretti qui se ne utilizza veramente poco e poi appunto ho preso i due smaltini i due smaltini di cui uno ovvero il lo 001 che è questo qui che è praticamente il corrispettivo dell'ombretto in colorazione a quello che avevo sulle unghie che comunque ho fatto una ho messo una foto su instagram appena applicato perché mi piaceva tantissimo e in quella foto su instagram si vede praticamente benissimo il riflesso che dà questo questo smalto che è lo stesso identico dell'ombretto cioè su su turchese lilla invece quest'altro è quello che praticamente secondo me ha fatto furore qui su youtube che è lo 002 ed è questo qui è più scuro ed è un viola con riflessi verdi che io non so se voi riuscite a percepire però vi assicuro che è molto molto bello ed è quello che praticamente fanno vedere ultimamente tantissime youtuber perché è quello più particolare in assoluto ed è anche quello che ha un colore comunque autunnale da poter utilizzare in autunno molto 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 bello diciamo che ho questi due sono complementari nel senso che questo è su un tono chiaro e questo è su un tono scuro ma sono comunque tutti e due sulla stessa tonalità quindi sul viola lilla e sul turchese azzurro scuro quindi questi e l'ombrettino allora io non mi ricordo quanto l'ho pagati aspettate forse riesco a trovare oh sì ho trovato ho trovato lo scontrino allora l'ombretto in polvere l'ho pagato 8 euro e 90 ecco questo mi ricordavo 8 euro e 90 questi qui invece li ho pagati 4 euro e 60 l'uno oddio gli smalti 4 euro e 60 l'uno invece l'ombretto 8 euro e 90 9 euro di ombretto però vi assicuro che ne vale veramente la pena perché sono prodotti ottimi e e niente quindi ragazze questo è tutto io spero che questo video vi possa essere stato utile ribadisco fatemi sapere con un commento qui sotto tutto quello che volete e ci vediamo al prossimo video ciao